Salve a tutti, sono Vincenzo Barba, presidente della Holding H2B. Sono lieto di condividere con voi un'entusiasmante novità. Nel 2024 abbiamo presentato sul mercato il nostro nuovo veicolo societario Prestito Sea Automotive. Una nuova avventura all'interno del nostro gruppo, creando una società dedicata a sviluppare, convenzionare, convenzionari, concessionari nel settore automotive in tutto il territorio nazionale. In particolare ci rivolgiamo a dealer nel settore auto, moto, mezzi pesanti, mezzi agricoli e a breve anche la nautica. Una start-up, ma non tanto, perché già più di 70 dealer hanno scelto di collaborare con Prestito Sea Automotive. Cosa possiamo offrire? La risposta è semplice, soluzioni finanziarie su visura per il settore automotive. Abbiamo sviluppato insieme ai nostri partner prodotti dedicati come prestiti finalizzati, leasing, ma non ci siamo fermati qui. Abbiamo creato un prodotto innovativo di cessione del quinto, appositivamente pensato per i concessionari, per aiutarli a crescere e prosperare. Ma c'è di più. Grazie alla nostra società Rental Sea, offriamo un'opportunità di convenzionamento per i dealer, mettendogli a disposizione la possibilità di operare con un importante autore europeo nel settore del noleggio a lungo termine. Negli ultimi sei mesi ci siamo dedicati a costruire un team di collaboratori eccezionali, dai responsabili della rete vendite, ai professionisti del credito, alle aree legali. Abbiamo creato un'opportunità di lavoro attraverso 20 nuove assunzioni. Questa nuova società all'interno del nostro gruppo ha l'ambizione di superare i 100 milioni di intermediato e i 10 milioni di fatturato già nel 2024. Questa è una straordinaria opportunità per tutti i professionisti che vogliono far parte di questo nuovo grande sogno. Infatti stiamo selezionando con cura 5 nuovi executive manager e 50 consulenti del credito ai quali affidare i territori ancora scoperti. Insomma, Prestitosi Automotive si sta preparando per un futuro di successo e innovazione nel mondo dei concessionari e rivenditori in Italia. Siete pronti a farne parte? Contattateci oggi stesso e unitevi a noi per questa straordinaria avventura. Vi aspettiamo!